Buona domenica dalla redazione di Flores Multimedia da Mauro Ciutini in studio, un pomeriggio con scarsa viabilità al momento in attesa dei rientri serali dalle località turistiche, prudenza sulla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo in avaria tra Firenze-Scandici e la Strasigna in direzione di Livorno, segnalato un controllo di velocità in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione di quest'ultimo. C'è ancora una riduzione di carreggiata sulla Bistiberina l'AE45 per lavori tra Vergherito e Canili in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Al momento non vengono segnalati i ritardi per quanto riguarda i voli aerei sia da Firenze che da Pisa. Ed è tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi. Grazie a tutti.